Grazie per il Prime, grazie mille, benvenuto, devo aprire Jumping Julan Io sono Leone Questa che gioco è raga? Jumping Julan, ok, ciao Oh, guarda che si zia è vecchiotto ormai, trovi su YouTube qualcosa? Ah, ma così? Che cazzo è questa roba? Ah, dove arriva la banderina? Non so che cosa Oh, parco due Oh, parco due Ah, sì, però di... Eh, vabbè, ciao Vabbè, ma qua sei bestemmia, raga Parco due Ma è un horror, un mezzo horror Ma, ma se... Cambia Ma una certa comincia a uscire fuori cose strane Mannaggia, la pera Non mi pagate così, no Mannaggia, la merda Grazie, Alexio Grazie, Alexio Mannaggia, zio treno Ma porco Sai che mi ricorda? Qualcosa che dovevi, tipo, portare il puntino È una certa... È una certa... Appariva quello A roshi Porco Dai, regà, ma io scapoccio fortissimo questa roba Io non so buona che vi braccio Guarda, ormai dovete... Mi dovete accannare, mi dovete Ma perché ho fatto questa cazzata? Regà Io non ci arrivo a jumpscare Ve lo dico, sbrocco prima Arigà Ma se ne va per cazzi sua Ve lo giuro Ve lo giuro Ve lo giuro Ma perché se ne va di sotto? Sto incassando come una serpe Grazie, Purple Grazie, Purple Calmi Allora, la calma È la virtù Dei forti La calma La virtù Dei cazzo di forti Uomini forti Destini forti Uomini deboli Destini deboli La virtù La virtù Oh, ma i mortacci Mi si è spioccato Le grippate quando... Ma che cazzo sta succedendo Si è riapriato il pc Perché il gioco è cascato Ma che cazzo? Ma ti sento? Ma che cazzo è un po' di E' un po' di Ma che cazzo è un po' di Sembra che ci sia stato un problema Ho aggiustato il gioco L'ho riso migliore Ho una domanda da farti Cosa pensi della vita dopo la morte? Io ci penso parecchio Questo gioco è tremendo Grazie Anna Ragazzi mi raccomando Andate a seguire il nuovo canale YouTube Lo trovate in bio il link di TikTok Se passate su Twitch Lo trovate pinnato da tutte le parti È un canale nuovo Dove ci metterò un sacco di roba figa Di vlog ma fighi però Cioè riguardo le cose che faccio io Quindi ultra pop Videogiochi, anime, manga, cinema Serie tv tutto Oh ma che cazzo Sì la rega ma siamo bestemmiato fino adesso Ma che famo Andiamo qua Mannaggia Rega ma io sbrocco qua C'è l'horror diventa io che comincio a impazzire Oh Mannaggia tuzia Tuzia No degrado no Ma questo c'è un problema d'orio C'è un problema d'orio Non è possibile C'è un problema d'ora Oh, for here come do the milk challenge. Let's do this. Mascia la sagra No frate ma io la voglio sparare Ma io non ce la faccio frate ma fino ad adesso Mi ho bestemmiato i santi così No regà no Dov'è cazzo? Ma dove va? Ma dove cazzo va? Eh sì affanculo te la vai Ma non è possibile Non è possibile No regà che nervoso davvero No frate ma non è possibile Ma regà ma io esco pa Ma io esco pa Ma non è possibile Sali su sto cazzo di gradino Almeno uno Lo fai almeno uno Ma non è possibile regà predittare sta roba Forco di... Dai non è possibile Sali Ma non è possibile Porco demonio Porco demonio No regà ma è improbabile sta roba che funzioni Cristo madonna Cristo Te credo un error Cioè ma che merda è? No regà se diventa più difficile di così io non lo faccio ve lo dico eh Cioè non ce la posso fare No è frustrantissimo Ma io spengo sto cosmo guarda Dio santo che ansia E' vero Evil La pazienza è la virtù dei forti Ricordate Ma ora questo è un'altra volta L'avete mandato voi? Dio santo che Die death happens Death comes unexpectedly One moment you're fine And then it all ends So Illusive Must die Mus die Oh ma il mortaccio Ma tu mori Mus die E qui bombe de merda Mi sono fatta male alla mamma Cazzo Grazie a tutti Certo Gini, grazie per il Prime Bacione Sei sicuro che stai giocando un gioco? Sì Sai che cos'è la realtà? Sì Sei vicino con la tua famiglia? Sì Do you think even loved ones could hurt each other? Do you think even loved ones? Che cazzo vuol dire? Loved ones could hurt each other? Che significa? Sta roba è incredantissima, è tipo quello lì del limone, capito? Questo gioco allucinante, non avete ancora visto niente, ma è bellissimo Chi si ama ti può ferire, sì If someone were to get in a fatal accident, would the death be painful? Che cazzo di domande so Se qualcuno si ritrova in un incidente statale, c'è un incidente, scusatemi, fatale La morte sarà dolorosa? Che cazzo ne so Sì People who do not repent of the sins are condemned Le persone che non si pentono dei loro peccati sono condannate No Do you believe everything I said? No Non credo a tutto quello che mi dici Ma che cazzo era? Hai guardato dietro di te? Cristo madonna, com'hai guardato dietro di te? Che cazzo ci stanno i gatti al massimo dietro di me? Sì Il tempo è poco Sì È troppo tardi? No Ma vaffa a culo, Marco Ma che si matta un culo? E che vuol dire sta roba? Che devo fare? Che devo fare? Devo andare qui? No ma via Sto gioco è allucinante, cioè Allucinante sto gioco È seccato dalla sedia, sai roba? Raga ma ho paura di sto gioco Balloon popper Alvis game Oddio raga Guardate i balloncini I giochi che da una volta Bellissimo Bellissimo Oh Do cazzo vai? Oh Brava, bella sta botta Ma se ne va per cazzo sua sta palla E niente Ben fatto Vabbè Capito? Ma scusa Ma dovrebbe essere C'è una parete Oh Piano 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 Oh Posso dire che C'ho paura che Esce fuori qualcosa Mo Capito? Ma se ne va per cazzo Piano 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 Ma vado Basta Oh Quanto cazzo deve durare sto gioco Dov'è? Oh cazzo Ho perso una palla Regà Mi sa che Se continuo Eh ciao Ma quanto deve durare sto robo Che cazzo Cazzo Ho fatto col culo comunque Sì ma basta Cioè Quanto ci deve mettere Dai basta Non si è rotta il cazzo Cioè Alla sto gioco di merda Fa cagare Pixel paint Hai 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 Che vi pensavate? Mamma mia sempre a pensare male Sempre a pensare male Che sozzi mamma mia Subito a pensare male Guarda Sempre a pensare male Non ho parole Sempre a pensare male Incredibile Ma come cazzo si fa a cancellare Tutti sti cosi con sto cubo Con sto cubetto Mamma mia ho sempre a pensare male State o mamma mia È un gatto È un gatto Miau Sempre a pensare male Parole guarda Siete veramente Pessimi 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 Vabbè ma roto il cazzo pure paint Puzzle patterns Oh Ma ma l'orecchia sta roba Dillo alla mamma Dillo all'avvocato Che devo fare? Match all the shape patterns È un app troppo forte Che gioco di merda è? Che gioco di merda è? Che dovrebbe Ma che dovrebbe essere sta roba? Ah surfur Qua mi fa andare tipo sul web Ma ancora lui? Ma ha rotto il cazzo mai Ma che fotocolleri so 836 Che cos'è sto numero? 749 Segnate questi numeri Per favore 749 836 Che ci dobbiamo fare? 749 Andiamo a morire Un gioco molto strano Oh Si è allungata Bello Madonna Se tu ubblicano Guarda che robetta No devo morire Avete detto Ma non moro mai Frate Ma non moro mai Frate Ah io ne ho un boss Posso morire Oddio Regà Ma succede qualcosa Non c'ho più i cosi Usare i documenti? Regà Che succede? Perché? Oh meno male Che posso togliere Sta cazzo De musica Eh c'ho paura Che qua Mi succede qualcosa Ma Dai Guarda Sta cazzo Documenti Ah documenti Beh Qual era il numero? Qual era il numero? Regà 4749 Ma che poi è altissimo Subject police report Fatal car accident Caused by drunk driver 12 agosto Il giorno dopo Il compleanno mio Ma vaffanculo A tragic car accident Accord Accident Involve Two vehicles A blue sedan Driving By a mother In black Pick up Truck Driving By a man In his 30 Mi date l'altro codice Qual era l'altro codice? 836 I see you kodo Ma li mortacci tua Ma li mortacci tua Ma pezzo di merda Ma che poi Mortacci sua Ciao Merda Vaffanculo Che devo fare Dovanna qua? Ma che è appunto Come work log Ma cazzo No non ho messo Nessun nome Ah su Vero Su surfer Ricordatevi un po' Qual era? Su alle 11.40 Poi ho stesso Stesso orario De qua È sincronizzato Cerchiamo il sito Su surfer Com'era? HTTP? Come ne ho messo In i pornazzi No non ho messo Ricordatevi un nome Me l'ha preso dal computer Il mio Posso dire Che mi ha rotto Già il cazzo Com'era l'altro codice? Questo è questo Com'era l'altro? Scrivetevi un po' Ah .com Eh Non mi fa copiare Da TikTok Da Sì Da Steam .com 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 Ma perché come dice Error? Ma mi dice sempre La stessa cazzata Ma se andiamo sul sito vero? Forbidden No non esiste Ah Tutto insieme Cazzo Dice Error Mi ritorno Alla Regà Ma come mai? Ne manca un pezzo Secondo me 749 Non credo Che famo? Restare computer Ma? Che devo fa' Potremmo Provare a morire? Vid player Dove sta di vid player? Vid player Non hai nessun video installato Jumping Julian No i video Non Il fotogallery È sempre qua No Regà 749 Quello di prima 836 Ha Boh Riprovo Ball Booper Che magari Non si è Buggato Non ho Fatto Eh vado su internet A far che Ma che cazzo? Oh regà Oddio Aiuto Ehm Donna che inquietante Ma che è? Il momento Non si piace Non si è Non si è Non mi entro Non si è Aaaaaa Nelle domande di fatta che perdevi c'era qualche codice, erano due, prova a unirli Mazzai che ansia sta roba Ma devo riprovare a far Giulia, no? Domande? Perché Giulia l'ho già fatto Ma devo perdere? No No, 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 no Ma tutto così? Vedi, HdWord? Il puzzle fra che vuol dire? Io ormai ho più i cuffi, regà, mi stanno a stura orecchie questo cazzo de coso Non me l'ho messo prima, Rendax non funzionava, non faceva nulla Facciamo il puzzle, ma il puzzle come funziona? Daisho, ti mancavano le S in Http's e Word nel link che provi prima? Ok, allora riproviamo Http's e mi sono detto una T di troppo, mezza Http's? Niente, frate, niente Niente Dov'è che la S? Http's e la S dov'è? E Word nel link E questo è però Non è questo, regà Http's? Senza S? Eh, ma infatti, boh Guardate un po' se è corretto Ah, manca qualcosa ancora nel link? No, è capace pure che sia Niente, regà, non è Non è quello Puzzle come si fa? Come si fa sto puzzle, scusatemi Words Nada Nada De nada Allora, Http Senza S La S mettiamo qua Niente, frate Zero Eh no, Gaio Course Legacy è finito D'un bel pozzo Prova a mettere il rombo su tutti i dati Su tutti i dati Ah, oddio, è vero Qua dice del rombo, effettivamente E che ce l'avevamo? Fatto Match all the shape patterns Che vuol dire? Ci dovrebbero essere dei numeri sopra Qui Ma tutti Ma tutti Dici Si capisce il cazzo, però scusa All of the shapes Allora facciamo tutti i triangoli Abbiamo fatto tutti i rombi Facciamo tutti i triangoli Tutti i triangoli I rombi I rombi amofatti I quadrati Vabbè, rifamoli tutti E tutti i triangoli E ora che manca? I triangoli hanno fatto i rombi I cerchi Mo' viene un jumpscare, eh Guardate, eh Devi andare su internet Ma che fa' cosa? Vuol dire Abbina tutti i modelli di forma Eh L'abbiamo fatte tutte Quadrato Cerchio Ma che vuol dire? Non so come si Devi fare a riga Ah, dici Tipo tutti i quadrati Eh, ma non c'è sta Troviamo quei triangoli Che cazzo te lo dimmi Però i rombi rimangono fuori Much older shape patterns Ricordo che dovevi Perdere tempo su paint Tipo e aspettare Che usciva qualcosa Ah Ok Possiamo provare E manca una riga Ciao L'abbiamo fatto prima Ma non si può Togli tutta sta roba Insieme Dovevo fare tutta sta cosa qua Stranino sto gioco comunque Buonasera Rainbow Pazienza infinita Avrei già cancellato il gioco No, vabbè Ma non è questione di pazienza È questione di curiosità È diverso Voglio vedere che cosa succede Perché in realtà Ogni tot Prende e esce qualcosa Di diverso Ed è figo Provo a colorare tutto Facciamo tutta la schermata nera Ma non piglia tutto sto coso Dovevo perdere tempo con paint Tipo qua Facciamo una riga Ogni colore Mi piace questo gioco Oddio No Ho sbagliato il gioco Ovvio che non lo farebbe Dai Oh my god Che coglioni Eh Ho cancellato tutto Mi sta prendendo un attimo Senti Più perde tempo di così Non so che fa Guarda che bello effetto Di varco baleno Facciamo verde Di aprire quelle pagine Occhio che stanno su internet Sulla pagina di serie Quella che hai aperto prima Poi le tasca lì Sono diverse in paragrafi Sono dei numeri Prima che devi schiacciare Vabbè Perdiamo un attimo Arco due Mannaggia la merda Perdiamo un attimo tempo qua Su sto coso E vediamo che succede Perché tanto sicuramente Deve succedere qualcosa Pure su paint Cento per cento Cento per cento Deve succedere qualcosa Sì La verità è che Arco Dai però è bello da guardare Cioè tipo che fai tutti Rilassano 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 Le Guarda che bei colori Guarda Marco Baleno Ecco qui E poi c'è il verde Verde Ci sono dei mini Sì Lo so Ci sono dei mini pixel Che rompono Il cazzo Ma perché questo Non lo fa Comunque Vabbè Io Volevo dire Ma c'ho Di un accenno Di autismo Lieve però Insomma C'è C'è Bene Passiamo al blu No Ma che mi stai a di Che questo Mi va sopra No 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 Non può esistere Ecco Ok Bello Mi piace Ok Benissimo Così Ecco qua Oh ma quando succede qualcosa Ancora no Secondo me il gioco Gli faccio pena Già la scelta poraccia Porco due Che cazzo Sta fa Pur de fa succede qualcosa Su paint Quanti so Quanti so Oddio mio Che angoscia Però posso dire Sta avvenendo Una bellissima opera d'arte Chi è Grazie Veil Cenci Dio Oddio Ecco Sta succedendo Fermi 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 Sempre presente Te se ama cuori Foto 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 Io avevo detto che sarebbe valsa la pena Fare questa cappellata su sto gioco L'avevo detto io L'avevo detto Cerchio Triangolo Cerchio Rombo A me sti giochi così Mi fanno Mi fanno In gare là Proprio guarda Mi fanno In gare là Da morì Cerchio Rombo Vediamo che cazzo Asce fuori Rombo Quadrato Quadrato Rombo No non ci credo Cazzo E' un video Regà E' un video Cazzo di video Porca merda E' un video Video cazzo Un video bruttissimo RIPER 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 C'è questo E' questo E' questo E' il video Cazzo 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 I'm always Watch And Listening Ti guardo E ascolto Sono sempre lì Che guardo E ascolto Sostanzialmente Cazzo E' il mio mix Cazzo Nice game bro Nice game bro This is one of the best ways to prevent cancer syndrome I bought it and it was creepy Don't Cazzo Ok Chiudi happiness Che facciamo? Ci servono altri numeri? Forse se perdiamo tempo anche col gioco C'è qualche... Oh ma è mezzanotte Acanamo Hello there My name is Julian And I am very happy you are playing with me I love when people play with me Use the arrow keys and space bar to help me make my way up to the top Have fun Vado tutto a destra? Ci sarà qualcosa anche su sto gioco regà Per forza Adesso vado di qua? Hai paura? Ma non c'è niente Devi fare quella cosa su internet Ma allora mua famo C'è perché mi ha rotto il cazzo A me questo Quindi che devo fare? Devo aprire ogni pagina di web E cercare cose esattamente Uno Da uno a nove che se cliccate in sequenza si appare un articolo? Ma non mi fa cliccare un cazzo Eccolo uno Aspetta Oh uno Due Cazzo ci stanno sul serio? C'è il tre qua? Vedete un tre? Eh minchia Al tre deve esserci stato per forza C'era? Dove cazzo sta? Per l'ultima fila? Eccolo Tre Allora qua c'è il quattro Cinque Sei Regà sto volume è altissimo Guarda mo eh C'è un sette vero? Sette otto e nove stanno qua Per forza Sette Otto Adesso nove La misteriosa scomparsa di Jason Storm è da Razzie Inc. Cazzo siete voi? Quere qua c'è uno due tre Quere qua c'è uno due tre Uno Cazzo Cazzo merda The rise and the fall of Jumpin' Julian A cautionary tale of game developer Cristo Do star tre Dio non trovo oltre i ragazzi Non trovo Eccolo The suicide outbreak at Razzie Inc. Shocking Ancora altri numeri Regà Oh mi esplode l'orecchio Oh mi esplode l'orecchio Madonna In a shocking turn of events Several employees at Razzie I incorporated Have committed suicide While playing the game È tutto collegato Uno Due Ancora Che mi sta scaricando Mi sta scaricando video Cazzo 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 codice mors che cazzo è questo è un virus frate ma a me sa esplode il computer che cazzo è ma che cazzo è regà che significa dice s o s no vabbè cos'è sta roba come la traduco dove li metto sti numeri è un codice mors s o s cerca ex tu asci ex tu asci codice binario no vabbè regà i brividi cazzo i wander in darkness but never in light i get to their heads and feed off of their anger you wish to find me i know you do ma vabbè regà ma questa è ansia wonder che cos'era nell'oscurità ma mai nella luce entro nelle loro teste e alimento la loro arabbia ti piacerebbe trovarmi lo so seek out un altro link these places and look very hard geniale geniale cazzo regà questo è veramente uno dei giochi più geniali che abbiamo mai giocato ed è una stronzata veramente una stronzata posso fare qualche altra cosa vagare infatti immaginavo fosse vagare giro vagare shocked first reaction shock il gioco si chiama oh non mi ricordo devo guardare i link devo guardare i link sono altri giochi secondo me perché i cio vedi trevor the dragon questo che cazzo è ma che devo giocare a questo no regà non è possibile si ragazzi poi carico la live sul canale youtube cercate codomo e trovate codomo gaming e codomo live e il canale codomo e basta e seguiteli tutti e tre il canale codomo non so se lo vedete subito perché è nuovissimo quindi non so se va a pare ma lì codomo gaming e live metto tutti quanti i gameplay praticamente e invece l'altro metto vlog roba diversa capito marshall bene ci sono altri giochi vediamo gli altri link gamecholt assurdo gamecholt ma che resta roba ma che giochi so ma posso fare qualche altra cosa su questo qua che sto giocando credo che siano tutti i giochi suoi comunque jackson game studios gratis cazzo che è strano che faccio cosa faccio rica posso fare qualche altra cosa o che basta stranello qua il sito non me lo dà comunque reset no non va a fare più niente ragazzi non so più che fa per me il gioco finisce qui non so che dirvi abbiamo fatto tutto abbiamo fatto paint il for il puzzle pure i documenti li abbiamo fatti tutti oh questo si è spostato non ci sta più help ma i link che ti ha dato quando hai tradotto il messaggio si possono usare sì sono giochi sono tutte giochi probabilmente 666 nei documenti dai ci deve essere forza qualcosa con 666 un po' è possibile che non ci sia repent of your sins repent of your sins repent che sei pentiti di voi dei due peccati pentiti dei due peccati lettori video ho già fatto devo giocare i giochi mica ma lunghissimo nob